Veloce, veloce, dai! Aiuto! Dai, veloce! Sindaco dei cittadini. Seconda la casa, non ne lascia tutto quanto! Ma che si diceva? E' terza con l'acqua che hai tutta roba a zona della media Tra tre che avevo tosse, tutti sono troppo stupendo. Carino? Poi puoi mettere in busta nella questa qua? Non mi ascolto! Ho un buomenato! Speriamo! Speriamo! Abbasci la bastone! Abbasci! Lì, lì! Ho paura di tornare a casa! Non ci voglio tornare a casa! Io ho paura! Allora, possiamo andare? Sì, sono tutto io qua, possiamo andare. Allora, fammi strada, ok? Devi fargli i pattati, Donaldò. Noi ci dobbiamo prima accertare, una volta che siamo sicuri, poi facciamo i gol. Non mi interessa, deve morire. Cosa devo fare? Gli la taglio io la testa o gliela taglio tutto? Voi che volete fare con la parte? Ma, così non è così, perché è l'impostante.